Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mono Sport 07 Siamo qui per parlare di Formula 1, è appena finita la gara ragazzi Cioè per finita dipendo, come sempre voi da quando venite il video Ho visto veramente comunque una bella gara Anche se in realtà da metà gara in poi è stata un po' noiosa Tranne per la vetta Tra l'altro ho notato una cosa, che ora che tutti i Ferrari, no? Cioè non che prima non ti fassi Ferrari, però La Ferrari, che ne so, tre anni fa lottava per il mondiale Due anni fa non lottava per il mondiale, però per il terzo posto Ora da terzo posto siamo scesi al centro classifica E quindi di Ricciardo con le lotte nelle retrovie Io dicevo alla regia che cazzo mi inquadri le lotte tra Ricciardo Ocon Quando in... tra Ricciardo Ocon nelle retrovie Quando magari tra i primi ci sono Vettel, Verstappen, eccetera, eccetera, no? Vabbè, qualcosa dovranno pure inquadrare E ora che mi rendo conto che Sainz è stato dietro a Ricciardo un secondo Per tutti gli ultimi 30 giri Tutti gli ultimi 30 giri, Sainz è stato un secondo da Ricciardo Tutti gli ultimi 30 giri E... però Ora dico cazzo inquadro Insomma ora te ne rendi conto di questa... di questa importanza E mi continuavano a inquadrare Hamilton che superava Bottas Con Bottas ovviamente riceveva l'ordine di... di scuderia, ecco Allora, l'ha vinta Mercedes più che Hamilton Ma Hamilton ha fatto uno straordinario lavoro Ma era più facile il lavoro che ha fatto Hamilton Perché lui si è fermato dopo Verstappen Quindi aveva gomma più fresca Solo che nonostante aveva gomma più fresca Non voleva passare il rischio di superare Verstappen Magari si trovava girato Perché Verstappen è molto aggrissimo nel chiudere E quindi lo hanno rifermato Cioè rendendogli la vita più semplice Perché se le gomma andavano bene Grazie a Hamilton Perché Hamilton noto sta cosa Quando... Cioè perché ora lui sicuramente il microfono dirà L'ho vinto in pista perché l'ho superato Eh ma... L'hai superato con gomma non so quanti giri più fresca amico mio Cioè non per qualcosa eh Poi boh Ha fatto comunque un grandissimo lavoro Ma questo è il lavoro di Hamilton È un mastino È un mastino sul passo gara Nei sorpassi A volte pecca un po' Infatti quante volte abbiamo visto Vettel Sverniciarlo in una maniera assurda Con delle staccate assurde E quante volte Hamilton ha Vettel L'abbiamo visto poche volte Vettel che poraccio Cioè si ritrova sedicesimo nel mondiale Dietro alle Alfa Romeo Che fine amara ha fatto Seb Non lo riconosco più Solo quando c'è da battagliare con qualcuno Riemerge il vero Seb Ma... Non lo so Non dico se è bollito Ma per me ha qualche problema interno Lui in generale Perché se due anni fa Vettel era terza nel mondiale Ora si ritrova sedicesimo Un motivo ci sarà Oltre che per la macchina Questo è sicuro E... Nulla Verstappen Secondo me viene sottovalutato il lavoro che fa Perché intanto ha dato un minuto al compagno di squadra Ma non è tanto questo il problema Il vero problema è di dire Bah In Red Bull ha fallito Gasly In Red Bull ha fallito Albon Ora non dico che sta fallendo anche Perez Ma dopo un tot di gare Perez io lo vedo Che è nel mondiale Sesto Non è quarto Dopo quattro gare Perez è ancora dietro A Norris e Leclerc E non di poco Questa gara Non è riuscito a stare davanti A Leclerc Non è stato il compagno di squadra Leclerc gli abbia dato Un bel po' di secondi La scorsa gara Ok È stata una gara Diciamo Da pilota Red Bull Se andiamo a quella prima Undicesimo Se andiamo a quella prima Ha fatto una rimonte E finito quinto Però non lo so Ha fatto benino Le prime tre gare Però Questa l'ha un po' steccata Sia qualifica Che gara Perché mettimi Ricciardo Al posto di Perez Il Ricciardo Della Red Bull Di qualche anno fa Che comunque Nonostante trovava traffico Un quarto posto a casa Te lo riuscivo a mettere Comunque Occasione sfruttata Ferrari Avevo detto che oggi Era un'occasione importante Per cercare di colmare i punti Il distacco dalla McLaren Quindi in ottica Terzo posto costruttori Ed è stato fatto Peccato per Sainz Che si è trovato dietro Ricciardo E poteva sicuramente batterlo Sarebbe stato Un distacco Cambiato di quattro punti Però insomma Adesso Sainz si ritrova Quattro punti da Ricciardo Leclerc si trova Un punto da Norris Norris un po' anomala Questa gara per lui Ma comunque Si ritrova appena dietro Sainz Quindi perde solamente Due punti rispetto a Sainz Ne perde tanti invece Al cospetto di Leclerc Ne perde ben otto Quando Leclerc È da dietro di nove Quindi ora Il punto di vantaggio di Norris Sulla Leclerc Rimane appena uno Mentre i punti di vantaggio Di Ricciardo Che questa gara Ha battuto il compagno di squadra I punti di vantaggio Di Ricciardo Su Sainz In questo momento Sono quattro Ma arrivano notifiche A go go Qui quindi meglio Disattivare la suoneria E intanto vedo anche Che il Cagliari ha vinto E nulla ragazzi Quindi occasione Spertato Ferrari Discreto Sainz Poteva far meglio Ma sta conoscendo bene La vettura E tra tutti i nuovi arrivati E anche quello che sta riscontrando Meno difficoltà Certo Quattro gran premi su quattro Dietro al compagno di squadra E fanno peso Perché intanto Ricciardo Ora è riuscito a battere Sainz Ma Ricciardo Ha quattro anni di Formula 1 In più Alle spalle Rispetto a Sainz Sainz è arrivato Nel 2015 Ricciardo è arrivato Nel 2011 Questo non lo dimentichiamo Ragazzi E Ricciardo è stato Più È stato più costante Cioè ha cambiato Più macchine Più costante Come posso dire Avendo lottato in un top team Ricciardo E sa come ci si comporta In determinate situazioni in pista Perché io non ricordo Sinceramente L'ora di Ricciardo Ricordo solo imprese Glamorose Come in Cina Quando era sesto Li ha superati tutti Fino ad andare Alla prima posizione Infiammata Quindi la lotta Per il terzo posto Costruttori Dove la Ferrari Si trova a 5 punti Dalla McLaren Leclerc si trova a un punto Da Norris E Sainz Trova a 4 punti Da Ricciardo Quindi è una lotta Veramente Infiammata Certo c'è la McLaren Davanti alla Ferrari Sainz dietro Ricciardo Leclerc dietro Norris Però insomma I distacchi sono veramente Minimi 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 ragazzi Un po' come lottare Con la Mercedes Nel 2018 Però con McLaren Al posto della Mercedes Invece del primo posto Ci battagliamo il terzo Quindi Accontentamosi raga E l'unica cosa Che possiamo fare È quella Bene l'Alfa Romeo Che si ritrova costantemente A lottare per la zona punti Anche se come sempre Si vogliono la strategia Giovinazzi Molto sfortunato Raikkonen Si è ritrovato a battagliare Per la zona punti Alla fine è 12esimo Un buon 12esimo posto Lo porta a casa Raikkonen ha fatto Undicesimo 12esimo 13esimo E ritirato la scorsa gara Però veramente Sto facendo bene Sto facendo molto molto bene Anche Giovinazzi Viene ampiamente sottovalutato Perché ogni gara Non è possibile Che gli fanno un errore Malissimo invece L'Aston Martin Che quest'anno Veramente è irriconoscibile Sta facendo di male in peggio Zero punti Nelle ultime due gare L'anno scorso Era la terza forza Del campionato Quest'anno Sembra di aver passato Alla settima Quindi una cosa Veramente Di incredibile Rischia Anzi al momento è ottava Se andiamo a prendere Le prestazioni È comunque dietro La farò mica per me Alpine invece in crescita Ma Alonso invece Un po' anomalo Se in quattro gare È andato a punti Sì due volte Ma mai Ma e risottolineo Mai davanti Il compagno di squadra Un motivo ci sarà Questa gara addirittura L'ha chiusa a 17esimo Perché ha sfruttato Ma nelle gomme Quindi mi aspettavo Leggermente Qualcosina in più Da Fernanda Alonso All'Alpine È sicuramente In grandissima crescita Ma farebbe meglio Trovarsi Un nuovo pilota Per il prossimo anno Perché Fernanda Alonso Ha 40 anni Con le nuove regole Non so quanto potrebbe rendere E quanto ci potrebbe puntar su Magari può essere Una buona spalla Per Ocon Magari vogliono puntare Tutto su Ocon Il che ci sta Perché le ultime tre gare È andato sempre a punti E sta facendo vedere anche Delle belle cose Non credo Si possa mettere in lotta Con Ferrari e McLaren Ocon Perché al momento I punti di distacco Da Sainz Non sono tanti In realtà Sono appena 10 Che comunque Tantissimi non sono Però Non lo so Non lo vedo Proprio così pronto I punti di distacco Da Ricciardo Sono 14 Mentre quelli di Norris e Legler Che sono veramente Un botto Non so se fino alla fine Dell'anno Riuscire a fare 30 punti Che sono quelli Che attualmente Di distacco Quindi Sto facendo bene L'Alpin Ma sicuramente Qualcosa in meno Rispetto Alla McLaren Alla Ferrari Detto questo Ragazzi Queste erano Le mie opinioni Quindi Insomma Per me L'ha vinta più la Mercedes Che Hamilton Anche se Hamilton Ha comunque fatto Il suo I dubbi Sui piloti Della Red Bull Ho questo Dubbio Che magari Puntino tutto Su Verstappen E quindi Ogni pilota Si ritrova a fare male Di conseguenza Perché cambi Albon Con Perez Se è così Quindi Occasione sfruttata Per la Ferrari Bisogna sfruttarle meglio Queste occasioni A Imola Potevano essere Tanti tanti punti in più Ricordo inoltre Che sempre a Imola Hamilton Se non rientrava in pista E perdeva quei 19 punti Che ha fatto a Imola Momentariamente Era a meno 5 Da Verstappen Quindi Giusto per farvi capire Non so quante posizioni Avrebbe guadagnato Non so neanche Se sarebbe andato In zona punti Quella gara Quindi Boh raga Non è tutto un grosso Un grossissimo punto interrogativo Sinceramente Ma va bene così Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Mi piace Caso di contrario Un dislike Comment se siete d'accordo Se siete d'accordo con me Se non l'avete ancora fatto Iscriviti al canale In descrizione Il link per sicuramente Un Instagram Da monesport07 È tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi